Un tecnico informatico di 58 anni è stato arrestato dai carabinieri con l'accusa di aver adescato su internet otto ragazzi tra i 13 e i 17 anni con i quali ha avuto rapporti sessuali dopo aver realizzato servizi fotografici in un parco di via Calzolari a Milano. Marco Saporiti, questo il nome dell'uomo impiegato in un'azienda svizzera, aveva già precedenti specifici. Le indagini dei militari del nucleo operativo della compagnia Milano Porta Magenta sono iniziate a fine marzo su segnalazioni dei genitori di alcune vittime insospettite dalla strana amicizia di quest'uomo con i loro figli e sono durate due mesi ma solo nei giorni scorsi gli è stata notificata l'ordinanza di custodia cautelare in carcere. Le accuse sono di adescamento di minori, prostituzione minorile, atti sessuali con minorenni, violenza sessuale. I suoi preferiti erano adolescenti con alle spalle storie difficili provenienti da uno dei quartieri più problematici della città adescati attraverso i social. Le intercettazioni telefoniche, ambientali e le conversazioni in chat hanno dimostrato il suo modus operandi. Con un profilo Facebook si fingeva un ragazzino e invitava i coetani a posare per Saporiti alludendo a ricompense in caso di rapporti sessuali, una sorta di tariffario. Ai minori erano spesso promesse ricariche telefoniche, soldi o addirittura motorini. Le indagini non sono state semplici perché davvero esperto di informatica, Saporiti cancellava periodicamente le sue tracce, formattando l'art disk del suo computer. Secondo gli investigatori, il numero delle vittime potrebbe essere molto più alto.